Mister Modesto, un'altra partita tosta su un campo pesante contro un Novara che, a dispetto della sua classifica in un buon periodo di forma, ha fermato anche il Mantova, primo in classifica. No, non è stata una partita molto semplice oggi. Questa è la sesta partita per noi consecutiva, è normale su un campo così pesante. Anche loro nel secondo tempo hanno avuto dei problemi, tanti ragazzi loro hanno avuto i crampi, quindi vuol dire che comunque il dispendio energetico è stato elevato. A partire del primo tempo molto più combattute, il secondo secondo me noi potevamo fare molto meglio, specialmente chi è entrato poteva fare molto di più, però dobbiamo subito ricaricarci da domani perché martedì abbiamo un'altra gara. Cosa le è piaciuto se c'è qualcosa di meno dei suoi in questa partita? Penso che abbiamo avuto meno aggressività del solito, ma dovuto sempre magari a un po' di carico che abbiamo in queste settimane perché le partite sono veramente tante, poi i campi comunque che andiamo a trovare sono pesanti, sperchiamo tante energie, quindi dobbiamo essere bravi a fare le cose fatte bene, recuperare il più possibile perché abbiamo un'altra partita molto ravvicinata e dobbiamo dare tutto noi stessi. Mister, si soffre di più in panchina o in tribuna? No, in panchina magari riesco più a essere lì presente con i ragazzi in tribuna, è differente anche se riesci a vedere la partita dall'alto che è anche bello, però preferisco stare in panchina. Come hai già detto si volta subito pagina, martedì c'è già il Lumezzane. Sì, è una partita impegnativa anche quella, è una squadra che ha valori importanti, lo sta dimostrando, è in una buona posizione di classifica e quindi è una grande prova ancora per noi.